Benvenuti nella galassia Rattix. Cerchi un crossover perfetto per la tua famiglia? Questa Citroen C3 Aircross 1.5 Blue HD 110 CV fill, immatricolata a febbraio 2021, potrebbe essere la scelta giusta. Con alimentazione diesel, cambio manuale e trazione anteriore, questa auto offre efficienza e affidabilità. È usata, ma in condizioni eccellenti e ha percorso solo 45.150 km certificati. Il suo vibrante colore, Spicy Orange, non passerà inosservato e con spazio sufficiente per tutta la famiglia, questa Citroen Aircross è perfetta per i tuoi viaggi quotidiani e le avventure del weekend. Vuoi saperne di più? Visita rattix.com e scopri come questa Citroen Aircross potrebbe diventare la tua prossima auto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.